Dal 21 marzo è in vigore l'Istituto della Mediazione. Insieme a questo strumento stanno nascendo anche delle nuove figure professionali, i mediatori appunto. L'Associazione Primavera Forense, che da mesi sta organizzando i corsi formativi, ha aperto le porte delle sue classi per aiutarci a comprendere meglio il percorso formativo per diventare un mediatore. Un corso da programma ministeriale dura 50 ore. Di queste alcune ore sono dedicate alla formazione sull'aspetto normativo, altre una buona parte all'aspetto pratico, tecnico pratico, quindi delle simulazioni in aula di come viene gestita una procedura di mediazione. All'esito del corso di mediazione ogni partecipante dovrà sostenere un esame a quiz e una procedura di mediazione simulata che, se superato, gli consentirà di ricevere l'attestato di mediatore professionista. L'attestato cioè che gli consente di iscriversi presso uno degli organismi di mediazione e operare appunto come mediatore professionista. La legge ammette la formazione, ha aperto la formazione per mediatori professionisti a tutti i laureati anche con laurea triennale oppure non laureati ma iscritti a un albo professionale. Noi stiamo riscontrando un interesse soprattutto da parte di avvocati e commercialisti ma abbiamo avuto anche dottori e insegnanti in pensione che vogliono poter avere una seconda chance professionale e lavorativa. Abbiamo avuto 400 mediatori formati nei nostri corsi, sono già tutti in possesso del loro attestato ed operano presso le decine, ad oggi direi quasi centinaia di organismi che sono già accreditati presso il Ministero della Giustizia. I costi di un corso vanno dalle 750 alle 3.000 euro, dipende molto dall'organismo che organizza. Chiunque voglia avere maggiori informazioni sui corsi di formazione ma anche sulla normativa e su quelle che sono la preparazione di un mediatore può recarsi sul sito www.primaveraforense.it